e al nostro stand televisivo ci è venuto a trovare Piero Ceccanti, ovvero il titolare del SCSRL che attiva nei prodotti chimici Piero. Certamente, nei prodotti chimici in generale, più che altro nel settore solventi, per il settore del cuoio e della pelle. Spieghiamo un po' anche a chi ci sta guardando cosa sono questi solventi e a cosa servono soprattutto. Attualmente negli anni 2000 sono stati banditi perché sono i prodotti che vengono classificati più inquinanti, ma non è così. Sono prodotti che servono per la rifinizione della pelle, la diluizione dell'aneline, eccetera. È un prodotto di rifinizione. Un prodotto di rifinizione molto importante nel comparto conciario. Te hai girato già gli stand di questa edizione di ottobre 2013. Come hai trovato i tuoi clienti che sono tra l'altro i più grandi conciatori? Sì, effettivamente ho trovato un gran numero di clienti perché noi sicuramente come SCI operiamo nel settore e siamo sicuramente, penso per i solventi le materie prime, uno delle aziende leader. Mi ha fatto molto piacere parlare con clienti e personaggi che vedo magari tutti i giorni, però l'ho visto abbastanza ottimisti e molto attivi. Speriamo che questa fiera ci porti ultimamente soddisfazioni. E la soddisfazione è anche vedere una grande partecipazione di clienti da tutto il mondo sono venuti qui a Bologna. Sì, ne abbiamo bisogno. Ne abbiamo bisogno in questi momenti di tensione, di crisi, di difficoltà. Abbiamo bisogno di tutto il mondo, anche perché questo commercio abbia un seguito come l'è sempre stato.